Ciao ciao, bell'Italia, son venuto col trenino, assai piano, assai vicino, come un sonio che mi ammalia. Io vi ho visto in televisione, voglio anch'io giocare col ballone. Sono grezzo, ma sono campione, mezzo bacio, mezzo manicone, ma chi sei, chi sei, chi sei, ma chi sei, chi sei? Sono un mediano di Roma Abdul, gioco riserva giù nel Kabul, e nella giungla profonda e nera, tiro per il culo, della pantera, tiro per il culo, della pantera, del blu, dipinto di blu, felice di stare passù. Eh ma che nebbia, sono scelto dal treno qua a Milano, che nebbia, scusi, non credo a nessuno, non c'è un essere umano qua nella nebbia. Eh mister, mister, seghe, ma che modo di parlare, scusi, io sono un mediano del Kabul, corro sulla fascia fino alla morte, faccio anche alcuni metri da deceduto. Sa mica dov'è la sede del Milan? Mamma mia, che cazzo me ne frega mica e tieni all'Atalanta. Mamma mia, che lingua barbara è, scusi, l'Atalanta, cos'è? Giocare con gli zocchi, cos'è l'Atalanta? No, è una squadra, una squadra con la maglia, con le righe nere e blu. Beh, anche io giocavo in una squadra con la maglia, nera, righe nere. Eh ma che maglia, eh? Niente, giocavo a Torso Nudo allora. Ma la via Neger, brutta lingua, mi scusi, va via Neger, proprio, non c'è verso. Ma chi sei, chi sei, chi sei? Ma chi sei, chi sei? Sono un mediano di nome Abdul, giocco riserva giù nel Kabul, e nella giunga profonda e nera. Giro i tacchetti e buonasera, giro i tacchetti e buonasera. Nel blu dipinto in blu, io e la palma ci diamo nel tuo. Adesso vado per la mia strada, ma che nebbia che c'è. Si è mai visto un negro nella nebbia? Eh per forza, non si vede. Oh, c'è il tram! Devo cercare un illuminario, un'edicola. Ecco, 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 edicolante. Scusi, scusi, edicolante, vorrei un'informazione. Prima te ne comprate il giornal. E ti do l'informazione. Ma come cacchio parlate, insomma, cioè, non per essere razzista, comunque, mi dia un giornale, mi dia la gazella dello sport. Ma che giornal è? È un giornale sportivo, no? Ma che titolo è la gazella dello sport? È un titolo fantasioso, no? Non come voi che vedo qui, ci avete, ci avete dei giornali, un giornale che si chiama Il Giornale. Cioè, quello che l'ha inventato è il genio, proprio, è una fantasia incredibile. C'è un figlio che ha un figlio. C'è un cane, cane. No, noi sì che abbiamo fantasia. Mamma mia, negri, allora. No, allora, adesso mi metto a parlare anch'io come voi. Sto imbarbarendo, mio milissimo. Vabbè, vabbè, vado via. Tanto, mi sono stancato, io c'ho talento. Adesso trovo una lattina. Mi metto qui a paleggiare all'incrocio con la lattina. Se Maometto non va alla montagna, anzi, se Maometto non va alla sede del Milan, la sede del Milan, però da Maometto. Uè, Rieger! Chi è? Scappa, Rieger! Ma cos'è? Cos'è? Sto parlando? Scappa, Rieger! Scappa, Pantera! La Pantera, allora. Paura io della Pantera. Mi ho visto nella giungla di Pantera. Che è la Pantera? Paura. Amore, chissà, io vuoi. Documenti, chissà, io vuoi. Sono un milano che ho me a tolla. Sono un gelbacchia della bolla. E nella notte profonda e nera, fammi un bel contratto come Rivera. Fammi un contratto come Rivera. Uè! Ma che va? Ma che va? Perché hai quei manganelli? Ma vi dovete massaggiare quei manganelli? Cioè, ma il modo di massaggiare un giocatore con i manganelli? Vi dovete ingaggiare e dovete prendere con la forza. Ma che squadra è mia? Che squadra è? Squadra mobile. Grazie, mia squadra è mobile. Tutte le squadre devono essere mobile, no? Mi hanno portato giù nel ritiro. Mi hanno portato giù nel ritiro. Mi hanno portato in ritiro a località Mena, a San Vittore. Con tutta la squadra. 2500. Un cazzo di turnover. Piero di giocatori. Stranieri. C'erano oslavi. Marocchini. Brasiliani. Con le calze di nylon. Io pensavo che si potessero toccare le partite. Ma le mezzale no. Adesso sto qui in cella. Mi alleno con la palla. Dicono che non passo mai la palla. Eh ragazzi, c'ho la palla a piede. Sregami che ti faccio dei cross, no? Eh, sono lì poi. Arriva uno. Che mi fa? Uè, Neger. Eh, Seghè. Ormai parlavo anch'io al dialetto, eh. Beh, parlo come l'uomo. Seghè, dai. Dimmi su, dimmi. Seghè. Espulso. Ma come? Ma come è espulso? Non ho neanche cominciato a giocare. Scusate, ma mi state facendo perdere la mia identità calcistica. Io sto qui a palleggiare. Ma sto qui anche, anche a chiedermi. Ma chi sono? Chi sono? Chi sono? Ma chi sono? Chi sono? Sono veneno di Roma Autor. E non riservo anche a San Vitor. E alla giungla della galera io torno a casa con la Pantera. Io torno a casa con la Pantera. Nel blu dipinto di blu. Io non ci tornerò più. Nel blu dipinto di blu. Io più non ci tornerò più. Nel blu dipinto di blu. Io non ci tornerò più. Nel blu dipinto di blu. Io non ci tornerò più. Grazie.